Nemmeno il tempo di smontare palcoscenico e allestimenti della mezzanotte bianca dei bambini che Piazza del Popolo ha iniziato oggi a insediare il cantiere del suo complesso lavoro di riqualificazione della pavimentazione nel cuore della città. Una piazza che si vuole preparare al massimo dello splendore in vista di Pesaro, capitale della cultura 2024, ma che di fatto non può chiudere del tutto al transito e alla fruizione di questo cuore del centro storico. E infatti parte oggi un calendario di lavori in tre stralci concordato con le attività della piazza per creare il minore impatto possibile di disagi. Dopo le indagini di georadar delle scorse settimane, oggi è partita la prima di tre tappe di lavori. Questa prima tappa prevederà la rimozione dei San Pietrini, la sistemazione del manto e il successivo riposizionamento dei San Pietrini nella metà della piazza compresa fra la Fontana e il Municipio. Lo stesso procedimento sarà poi utilizzato per l'altra metà della piazza nel secondo step previsto per ottobre. In entrambi i casi sono previsti anche gli interventi da parte di Marche Multiservizi di riqualificazione della rete di sottoservizi. La terza tappa sarà nella fascia laterale della piazza davanti alla sede del Comune. Ma è un lunedì di cambiamento per il centro mare della città che si allarga pure alla fine della pedonalizzazione di Viale Trieste. Sono scaduti infatti ieri i termini per le isole pedonali che sono state create lo scorso 2 giugno su tutto il lungomare di Pesaro confermando una scelta risultata azzeccata per il terzo anno consecutivo. Da oggi il Viale torna carrabile ma di fatto lo sarà solo per pochi giorni perché dal 10 al 12 settembre richiederà al transito per la fiera di San Nicola. Ricordiamo anche che in concomitanza al Via delle Isole Pedonali fu pure inaugurato il parcheggio di Villa Marina che invece resterà aperto anche per l'inverno nell'ottica della riapertura di Pesaro Studi sia come sede dell'Università sia come sede temporanea della Scuola Media Dante Alighieri.